E oggi parliamo di un argomento molto importante, state bene a sentire, perché parliamo di cellule staminali adulte, che cosa sono, che cosa fanno, è il futuro della nostra medicina, è il futuro che ci permetterà di guarire da tantissime patologie molto serie. Io per parlare di questo ho degli ospiti eccezionali qui con me, allora do intanto il benvenuto al professor Alberto Bosi, che è il direttore dell'unità di ematologia dell'ospedale Careggi di Firenze. Ho una testimone d'eccezione, eccellente, diciamo così, insomma, paziente del professor Bosi, Manila Madiai, che è guarita grazie proprio alle cellule staminali adulte, poi sentiremo la sua storia, la sua testimonianza, in che modo è riuscita a guarire. E accanto a me, insomma, la dottoressa Alice Bandiera, che è la vicepresidente dell'Adoces, che cos'è l'Adoces? È l'associazione che raduna, la federazione che raduna tutte le associazioni di donatori di cellule staminali adulte e capiremo anche cosa fa questa associazione, proprio per sensibilizzare le donne, proprio a donare il proprio cordone ombelicale, proprio per permettere a tante persone che soffrono di patologie molto serie di poter guarire. Allora, professor Bosi, iniziamo a dire che cosa sono le cellule staminali e dove sono collocate. Sì, le cellule staminali sono le cellule mamme, quelle cioè che producono attraverso vari passaggi le cellule nostre del sangue, cioè i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. Si trovano nel midollo osseo, sono cellule staminali quindi emopoietiche, producono quindi il sangue, si trovano nel midollo osseo ma non solo, infatti si trovano anche nel nostro sangue circolante, seppur in minima quantità, e poi alla nascita hanno il cordone ombelicale, e questo è molto importante perché al momento del parto è possibile raccogliere le cellule staminali che andrebbero perdute, e quindi non utilizzate e invece possono essere raccolte e conservate in banca dove verranno studiate, tipizzate e quindi potranno essere disponibili per un trapianto di cellule staminali emopoietiche e per coloro che ne avessero necessità. Sono di alcune patologie, allora poi parleremo di quale patologie possono curare al momento perché poi la medicina sta andando... ...e come dire, malattia, anemia mediterranea, insomma molto diffusa la talassimia. Allora però io qui accanto a me ho detto che ho la vicepresidente dell'associazione Ladoces, è proprio un punto che raduna tutte le associazioni, insomma, di donatori di cellule staminali adulte. Allora abbiamo sentito del cordone ombelicale, esattamente che cosa fa la vostra associazione? La nostra associazione sensibilizza, realizza campagne di informazione per arrivare alle donne che aspettano un bambino, abbiamo varie partenariati come l'associazione italiana Biblioteche, tutti i materiali che abbiamo realizzato nella campagna Nati per Donare è presente in 800 biblioteche italiane, dove tutte le mamme possono trovare tutte le informazioni che necessitano per accedere alla donazione con i punti nascita, sono tantissimi i punti nascita in Italia, sono più di 300, dove le mamme possono donare il sangue cordonale, con tutti i riferimenti per gli appuntamenti, per le telefonate, ma soprattutto per realizzare degli opuscoli informativi, delle guide, perché le mamme abbiano una perfetta conoscenza della possibilità di donare, cosa serve, quali sono i risultati, in che modo anche cosa occorre, anche se occorre una procedura, poi ne parleremo più avanti di questo, dottoressa Bagniera, proprio per capire e proprio per dare informazioni magari alle amiche che ci stanno seguendo da casa, in che modo fare, poi che cosa sono queste banche esattamente, perché banche pubbliche, banche private, c'è stata polemica anche negli anni passati, proprio su questo fronte, ne parleremo più avanti. Allora, professor Bosi, io voglio sapere quali sono le patologie, io ho detto che oggi ci concentreremo soprattutto su tre patologie che possono essere curate, in realtà quali sono le patologie? Sono molto di più, perché il sistema emopoietico da origine... Emopoietico, allora ripetiamo... Significa il produttore del sangue, proprio povere. Da origine anche a cellule che sono immunologiche, quindi che hanno un'azione immunitaria e quindi laddove ci sia una malattia che è caratterizzata da un difetto immunologico dalla nascita, può essere effettuato un trapianto di cellulostaminale per recuperare questa malattia, comeppure alcune malattie enzimatiche, cioè da difetto di sintesi o di proteine o di distruzione di grassi che determinano delle gravi malattie congenite, possono essere curate sempre con un trapianto di cellulostaminale. E poi tutta una serie di malattie, le più recenti sono rappresentate da alcune malattie autoimmuni. In questo caso facciamo l'autotrapianto, per esempio per la sclerosi multipla, per la sclerosi sistemica, quindi patologie in cui i farmaci convenzionali a un certo punto non hanno più efficacia, possiamo passare in questo caso a un trapianto di cellulostaminale autologhe, cioè provenienti dallo stesso individuo. Dallo stesso, dalla stessa persona insomma, non eterologo, cioè da un donatore esterno. E qui è molto più semplice perché non ci sono problemi di compatibilità immunologica, come avviene invece nel caso di trapianto da altri individui. Allora, iniziamo a parlare delle patologie, analizziamo tre patologie, diceva all'inizio, appunto tre patologie in particolare, iniziamo dalla leucemia acuta. Allora, iniziamo a dire, quali sono i sintomi? La leucemia acuta si presenta a volte in maniera veramente drammatica, soprattutto con fenomeni emorragici, con fenomeni di grave animizzazione, cioè il paziente è profondamente debole, non ce la fa più, e spesse volte c'è anche un'infezione associata, in quanto la leucemia distrugge quelle che sono le cellule normali del sangue, cioè le piastrine che ci proteggono dalle emorragie, i granulociti neutrofili che ci proteggono dalle infezioni e i globuli rossi che ci permettono di portare l'ossigeno a tutto l'organismo. E quindi il paziente è fortemente debole. In più ci sono anche dei sintomi di espansione di queste cellule in maniera tumultuosa e quindi potremmo avere localizzazioni alle ossa e quindi grandi dolori alle ossa, a volte d'intrezzamento anche del sistema nervoso centrale, di cefalea, vomito e a volte tumefazione dei linfonodi e quindi difficoltà respiratorie o addominali. Quindi un quadro estremamente drammatico che richiede un intervento precocissimo sia con terapia di supporto, sia quindi trasfusioni eccetera. Certo, poi parleremo esattamente anche della diagnosi e delle terapie. Io intanto volevo sapere la storia, la storia di Manila, no? Allora, Manila, la tua storia perché tu appunto soffrivi, ti è stata diagnosticata la leucemia acuta, esattamente quanti anni fa? Dunque, la diagnosi, io fu ricoverata il primo febbraio del 2006, quindi ben otto anni fa. Otto anni fa, sì. Stavo molto male, molto male, avevo degli esami del sangue pessimi, non ce la facevo a camminare, non avevo fiato, avevo l'86% dei blasti nel sangue, il professor Bosi sa perfettamente cosa sono, cioè tutte cellule tumorali, io avevo una stanchezza incredibile, quindi finalmente il mio medico si è deciso di farmi… Ricoverare per un… No, prima degli esami. Feci gli esami, era un mercoledì mattina, alle due e mezzo del pomeriggio, il mio medico curante chiamò di essere Manila, deve andare in ospedale subito a fare una trasfusione di sangue. Ma mi dici come fai a stare in piedi, dottore, mi avevo detto che non me la sentivo. Quindi fu ricoverata all'ospedale più vicino, che non era Careggi, perché io abito nella zona di Firenze Sud, e lì iniziò la storia. Inizio l'iter e io per prima vogli essere ricoverata all'università, cioè proprio a ematologia. All'università dell'ospedale Careggi di Firenze. Sì, al reparto del professor Bosi, in quanto è il migliore, cioè non soltanto a livello italiano, ma a livello fiorentino è quello più… Non sarebbe stato facile entrare, però fortunatamente trovai… La possibilità di poter entrare. Quanto tempo si è stata ricoverata all'interno dell'ospedale? Allora, il primo ricovero è durato circa 55 giorni, poiché dopo la diagnosi, appunto, le ocemi amminoide acuta reprattaria, mi fu fatta la prima chemio. Chemioterapia. Chemioterapia che purtroppo non ebbe risposta. Non ha i frutti sperati. Esatto. E quindi senza rimandarmi a casa mi fu fatto un ulteriore chemio. Dopodiché, dopo questi 55 giorni, ovviamente distrutta perché sono terapie veramente importanti. Ebbè, sono molto invasive questo. Tegliamoci. Una settimana a casa… Tu eri anche molto giovane. Tutt'ora lo sei giovane. 38 anni, 38 anni. Quindi niente, è andata a casa, ricoverata per la terza terapia, dove finalmente ho avuto la remissione totale della malattia. Però, la diagnosi, appunto, con le ocemi amminoide acuta, rifrattaria, ci voleva il trapianto. Allora, prima di parlare, poi, per quale motivo, che cosa è successo dopo, che cosa ti ha fatto rinascere. Certo. Grazie Dio, grazie anche all'associazione Alladoces, grazie alla donazione, mi raccomando, del cordone ombelicale. Quello è fondamentale. Quello è fondamentale, perché se no Manila non era qui? No. Non era qui, lo dobbiamo dire, Manila, perché, insomma, è questo, la donazione è fondamentale. Questo è lo scopo. E questo è lo scopo. Per poter divulgare, poter dire, a tutte le persone, a tutte le mamme che sono in attesa, donate il vostro cordone ombelicale. In Italia sono davvero tante le possibilità per poterlo fare, poi sentiremo, appunto, anche la dottoressa Bandiera. Allora, professor Bosi, poi continuiamo, come dire, a raccontare la storia della nostra Manila. La diagnosi della leucemia, come si fa la diagnosi? La diagnosi si fa con un talora, semplicemente con l'emocromo, quindi esame che fanno un po' tutti, diciamo, e però a volte ci vogliono invece gli esami più specifici, una formula leucitaria fatta molto bene, cioè con vedere come sono questi globuli bianchi, e poi si possono studiare con delle procedure un po' più complicate, e noi riusciamo a fare la diagnosi e anche a tipizzare il tipo di leucemia, perché ci sono alcune leucemie che sono più sensibili ai farmaci e altre invece meno sensibili. Molto importante è anche lo studio dei cromosomi, perché se sono presenti delle alterazioni cromosomi, purtroppo la prognosi spesse volte è più grave. Su questa base noi ci prospettiamo un programma di terapia che comprenda o meno il trapianto, perché il trapianto ha anche dei rischi. Dei rischi, certamente. Allora, iniziamo a parlare delle terapie, perché abbiamo sentito Manila che ha fatto appunto dei cicli di chemioterapia. Esattamente. Purtroppo chemioterapia che probabilmente non ha dato i frutti sperati, diciamo così. Assolutamente. Allora, qual è la terapia? Dipende da paziente a paziente, questo insomma lo dobbiamo dire, insomma il paziente deve essere visitato. Delle forme più frequenti, come quello di Manila, la terapia si basa su un'associazione di farmaci, e chiaramente non tutti i pazienti ottengono la remissione completa, la remissione significa la scomparsa apparente della malattia, e quindi questo significa che questo tipo di cellule sono particolarmente resistenti nel caso in cui non avvenga la remissione. E quindi c'è bisogno di provare altri farmaci che eventualmente possano dare un risultato migliore, come è stato il caso suo. Passando a una diversa associazione, usando degli altri farmaci, è stato possibile ottenere la remissione. Però noi sappiamo che in questo caso questa remissione può durare poco tempo e quindi bisogna intervenire con una terapia risolutiva e il trapianto. E il trapianto. Allora, come avviene il trapianto di cellule staminali adulti? Bisogna innanzitutto identificare un donatore, perché senza donatore non c'è trapianto. Non si fa nulla per questo, appunto, è fondamentale. Oggi abbiamo la possibilità di identificare un donatore sia in ambito della famiglia, ma sappiamo che in Italia a causa del calo della natalità è sempre più difficile trovare in famiglia un fratello o una sorella compatibile. E quindi è importante avere dei donatori alternativi. Ci sono oggi molti donatori, in Italia anche oltre 300.000, che si sono iscritti a un registro e sono disponibili a donare le proprie cellule staminali per altri. E poi abbiamo le cellule conservate nella banca del sangue cordonale, dove è possibile identificare delle unità di cordonali compatibili con il nostro paziente. Allora, nel caso di Manila, a che punto siete arrivati a proporle, ovviamente, la possibilità di effettuare un trapianto di cellule staminali embrionale? Quando Manila ha ottenuto la remissione completa, l'avevamo già studiata dal punto di vista del sistema di compatibilità e abbiamo visto che non aveva nessun donatore volontario di cellule staminali e fortunatamente invece abbiamo identificato nella banca di sangue cordonale un'unità compatibile. Questa banca si trovava a New York, negli Stati Uniti. Però le cellule che aveva questa unità cordonale non erano sufficienti al suo peso. Forse è l'unico neo delle cellule staminali del cordone umbilicale che sono poche. Però nel caso di Manila abbiamo fatto di più, cioè invece di trapiantare una unità cordonale ne abbiamo trapiantati due. E abbiamo raggiunto la dose di cellule necessaria a Manila. Tu come hai reagito, Manila, quando ti è stato proposto la possibilità, ovviamente, io non, allora, in che cosa consiste? Non so se è invasivo o come... No, no, assolutamente. 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 Cosa è successo? I medici a volte possono... No, no, allora, cosa è successo? È una banale trasfusione di sangue, non è niente abituata a fare niente. Abituata a fare, insomma, delle cure abbastanza... Non è assolutamente niente, trapianto è in dolore, non dà nessun tipo di problemi. Certo, è un interlungo, però quando me lo proposero, appunto, mi ero felicissima, in quanto era l'unica aspettativa di vita, cioè non poteva essere diversamente, o questo, o questo. Quindi ben finisce e... Allora, vi siete ovviamente, immagino che l'ospedale Careggi, in questo caso il professor Bosi, si sia messo in contatto con l'Ado, cioè si immagino che voi vi siate, in qualche modo, l'associazione che raduna tutte quante le associazioni, la federazione dell'associazione dei notori di vita. No, l'associazione svolge un'opera di sensibilizzazione perché le mamme donino alle banche pubbliche. Esatto, questo è fondamentale. Allora, in Italia come avviene? Allora, quando io, insomma, sono una donna incinta, voglio ovviamente donare il mio cordone umbilicale. Qual è l'iter? Allora, l'iter è questo. Si cerca qual è il punto nascita più vicino o la banca più vicina. Si chiama e si chiede, io dovrei partorire fra un mese, fra due mesi, sono una persona sana, posso donare? L'ostetrica o chi le risponde le chiederà una serie di, se prende pastiglie, se prende per il diabete, ci sono delle malattie che non possono essere, non si può accedere alla donazione. Se è una persona sana, le viene indicato dove è il punto nascita più vicino, dove va a partorire, oppure conferma se dove lei va a partorire si può fare la raccolta. Un mese prima della nascita, la donna deve andare nel punto, nel laboratorio, per fare un'analisi, uno screening, un counselling con l'ostetrica di solito e sottoscrivere poi il consenso informato alla donazione. Quindi per fare un consenso informato la donna deve essere perfettamente informata della donazione, perché è una donazione che va trapiantata in un altro paziente, quindi deve avere i requisiti di qualità. Allora, in Italia è vietata la donazione per fini personali, nel senso che non esistono banche private, esistono appunto la possibilità di donare a tutti, cioè senza scopo di lucro. Però molte donne purtroppo pensano che magari donare il proprio cordone ombelicale e metterlo da parte per i propri bambini sia forse la cosa più giusta. In realtà non è così, professore. No, in Italia fortunatamente direi, si parla tante volte male dell'Italia, ma in questo settore siamo proprio all'avanguardia. Nel senso che non è consentita, innanzitutto non ci sono banche private, quindi quelle esistenti non sono sul territorio italiano. Perché questo? Perché c'è la necessità dell'accreditamento. Quando io ho chiesto alla banca di cordone di New York per Manila, dovevo avere la garanzia che queste cellule fossero state raccolte e conservate bene. Non potevo trapiantare qualcosa di cui non avevo la garanzia. Analogamente, quando l'hanno date a me, loro, la banca di New York, doveva conoscere che il nostro centro trapianti aveva una struttura tale da avere un accreditamento. E quindi, siccome è una rete mondiale, bisogna solo che le strutture accreditate, siano queste banche o centri trapianti, possano interagire in questo network. Questo è fondamentale. Le donne possono donare, esiste solo la possibilità della cosiddetta donazione dedicata. Che significa? Che qualora in famiglia ci sia un problema, cioè una malattia, che può essere curata con il trapianto di cellule staminali, allora in questo caso è consentito di conservare sempre presso la banca pubblica le proprie cellule. Soltanto in questo caso, se c'è familiarità, se c'è un fattore di rischio molto alto, immagino. Ovviamente siamo molto aperti, noi descriviamo tutte le condizioni cliniche che richiedono un trapianto di cellule staminali, continuamente ne aggiorniamo l'elenco per favorire al massimo, ma solo con questo intendimento. Non ha senso conservare una struttura, che non sappiamo qualessa sia, delle cellule non verranno mai utilizzate. La donazione è pubblica, per cui tutti possono accedere, meno male, alle cellule staminali da cordone ombelicali. Meno male, questa è una grande vittoria italiana, diciamo così. Manila, ma tu adesso come stai? A otto anni dal trapianto, come ti senti? Bene, sinceramente bene. Sono tornata a fare una vita normale, ho il mio lavoro, ho i miei amici. Per fortuna non ho avuto ricadute e quindi faccio i controlli semestrali, giustamente, però non ho avuto più nessun tipo di problema. Di problema. Forse, abbiamo pochissimo tempo, siamo in chiusura. Il futuro delle cellule staminali adulte? Il futuro delle cellule staminali è sicuramente molto interessante, perché ci sono tanti studi che sono in corso per trovare un impiego del vecello staminali, oltre quello già conosciuto. Però dobbiamo essere molto, diciamo, col piedi per terra. Abbiamo tanti pazienti che richiedono il trapianto, quindi il futuro è quello di oggi, perché avere a disposizione delle unità di sangue cordonale che consentono di guarire delle persone come Manila, è la cosa più bella e più importante. Quindi bisogna mantenere questo sistema. Sappiamo che oggi ci sono dei problemi di revisione della spesa, sono strutture sicuramente anche le banche a alto costo, ma questo sistema deve essere privilegiato, senz'altro. Questo senz'altro, allora, l'adoces, intanto io magari chiedo alla regia se è possibile mandare in onda il sito dell'adoces.it, dove all'interno appunto ci sono tante informazioni utili, insomma anche c'è informazioni utili che sono le cellule staminali, lo stiamo vedendo in questo momento. Allora, quali sono i progetti futuri della vostra associazione? Oltre a sensibilizzare, che insomma è il vostro scopo principale, avete in programma qualche altro? Sì, stiamo portando avanti un progetto per coinvolgere le donne emigrate in Italia a donare il sangue cordonale, perché così potranno aiutare i loro, geneticamente parlando, queste donazioni potranno aiutare i loro connazionali, altrimenti non si trovano, vero professore? Non si trovano. È difficile, perché le donazioni avvengono sostanzialmente nei paesi occidentali. E quindi noi stiamo facendo questo progetto che si chiama anche noi nati per donare e abbiamo già le prime mamme, tante mamme, che ci hanno aiutato a preparare le campagne multilingue, anche gli strumenti, i video vocali, per aiutare proprio alla maggior comprensione possibile. A poter donare anche il proprio cordone ombelicale, questo è il messaggio. E nel sito ci sono anche già tutta la parte multilinguistica per le mamme che vogliono saperne di più. E comunque anche per le mamme italiane, se vogliono sapere come fare, andate sul sito, magari una telefonata, magari trovare anche il centro ospedaliero più vicino. C'è anche un'ostetrica a disposizione che può rispondere a tutte le domande. Tranquillamente, a tutte le domande, a tutte le curiosità, perché normalmente una mamma si fa prendere per quale motivo, che cosa succede al cordone ombelicale, ma avete visto che cosa succede? La guarigione totale da una patologia seria come la leucemia. Allora, professore, purtroppo non possiamo parlare né di linfomi, né ovviamente di anemia mediterranea, ma torneremo a parlare di questo, professore ce lo premette, tornerà a parlare di queste malattie che si possono curare, grazie anche appunto, come abbiamo detto, al trapianto di cellule staminali da cordone ombelicale. Grazie davvero, professor Bosi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.